Questo programma è offerto da... E' iniziata adesso la partita tra le vecchie glorie del calcio sannicandrese. Vicino a me c'è Antonio Salvatore, detto Ucombar, che ha organizzato insieme agli altri suoi amici questa partita tra vecchie glorie. Il pallone viene passato praticamente da Domenico Santamaria, poi la palla arriva dalle parti di Michele Solimando. Dai 35 metri, proprio un tiro dalla distanza, la palla viene bloccata dal portiere Placentino. Ecco Costantino, il veterano della squadra. Ottimo, ottimo passaggio, l'inserimento di Ruggeri ed è gol, gol di Ruggeri. Primo gol di Nardino Ruggeri che dopo uno schema ben riuscito con il proprio compagno insacca il pallone alle spalle di Placentino che nulla può. Leonardo Giagnoli è anche voce conduttore storico di TV Sannicandro, la vecchia emittente locale, insomma è uno che ha anche esperienza televisiva oltre che radiofonica. Insomma qui hanno fatto un po' di tutto. Vediamo Gaeta, prova a mettere in mezzo questo pallone. Pietro Ciamarella, limite dell'aria al tiro. E non c'è. Adesso Santamaria che gioca d'ala destra, vede lo scatto di Ruggeri, Ruggeri, la finta, Ruggeri entra nell'aria di rigore, Ruggeri, ancora Ruggeri. Poi al tiro c'è la parata di Placentino che in due tempi va a bloccare. Adesso c'è ancora una palla verso Ruggeri, Ruggeri il pallonetto. Non è entrata, l'arbitro dice che non è entrata. Noi ve lo diciamo perché si è visto che non è entrata. Salvataggio sulla linea da parte di chi è? Chi l'ha salvato sulla linea? Lino Francioso. Eccolo il gol, il pareggio. Vedete che era bravo. Buono, risultato giusto. Nardino, limite dell'aria. Prova a metterla su sinistro, prova a metterla su sinistro, prova a metterla su sinistro. Prova a metterla su sinistro, prova a metterla su sinistro. E la rete, bellissimo questo gol da parte di Nardino Ruggeri. Veramente molto bello. Molti ricordi, molti tornei cittadini. Quest'ora, in tempi non sospetti, parliamo di 15-20 anni fa, c'era in questo periodo, oggi siamo al 14, la finale del primo e secondo posto. Quindi a quest'ora, esattamente in questa giornata, c'erano quasi sugli spalti più di 2-3 mila persone. Perché era molto sentita, oggi ritorniamo in dete con il tempo, vedendo questi bei ragazzotti. Amma mia Zaccagnino. Come il cameriere? Sul retro passaggio prende il pallone. L'ho appena detto. Vediamo chi batte questa posizione. Sto il mando, Santa Maria fuori. Ha rimbalzato all'ultimo momento, il pallone per ieri a tirare. Ancora Guerrieri, il pallone arriva all'interno della rigore, dove c'è Vincenzo Flena? Non riesce a mettere giù questa palla. Il presidente dell'ASD San Nicandro supera un paio di avversari, poi il pallone all'interno della rigore. C'è il tiro, stoppa bene, c'è Michele Senisi all'interno della rigore, sbaglia lo stop, poi Placendino sbaglia il rinvio. Ancora Placendino, la butta via. Il Zaccagnino vede... Ecco Ciavarella, Ciavarella, Gaeta, Gaeta, è una buona occasione. È una buona occasione, metti al centro. Passaggio, e c'è il gol di Vincenzo Flena. Al ventiduesimo minuto il gol di Vincenzo Flena. E c'è il 2 a 2 in questo momento. De Pilla fa fuori 4-5 avversari con uno scatto. Poi provano a mettere il pallone verso Ruggeri, c'è ci arriva Nardino, un po' lungo. Nardino mette il pallone in mezzo, c'è Santamaria e c'è il gol da parte di Domenico Santamaria. C'è un passo superiore Ruggeri. Gran gol da parte di Santamaria. Prova Franco, De Pilla, uno spiovente all'interno della rigore, la palla resta lì, poi c'è il gol! Ruggeri, che gol! Ancora lui! Adesso è il tiro da parte di Lella, e c'è il tocco di mano ed è il rigore. da Vincenzo Flena, solo il cucchiago. E no, invece è il tiro di potenza, 4-3. La palla verso Villani, tiro di Villani! E la partita finisce qui, 4-3 finale, tutti quanti molto contenti. Mattatore del match, Ruggeri da una parte, Vincenzo Flena dall'altra. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ciao!